Il yacht club di Monaco ha 1300 membri di 60 nazionalità diverse e circa il 70% possiede un'imbarcazione. Sarà un bello spazio dedicato al mare, alla possibilità dell'industria di fare le sue feste, l'industria legata allo yacht, ma ovviamente dovrebbe essere qua al quarto piano del futuro battimento dello yacht club a Monaco, sul ponte di un grosso yacht, alla stessa altezza delle dimura. Battono bandiera dello yacht club a Monaco circa 1061 imbarcazioni e tra queste ci sono almeno un quarto dei 100 yacht più grandi del mondo.